Come posso aiutarti? Buongiorno, vorrei prendere 200.000 euro in prestito per comprare la casa e affittarla. Ok, nessun problema, però vedo qui nel sistema che sei già un milionario. Perché ti servono i soldi? Perché usare i miei soldi se posso usare i tuoi? Non lo so, per non pagare interessi? È una buona osservazione, però no. Siccome sono milionario e una buona storia creditizia, mi prestano dei soldi a un tasso di 3%. Con la proprietà che comprerò avrò un reddito del 10% annuo. In parole povere, avrò un profitto netto di 7%. Quindi usi i nostri soldi per fare più soldi? Assolutamente sì, questo è un trucco che tutti noi milionari usiamo. E lo conosco perché continuo a seguire Adriano D'Arie.